Assunzioni in cambio di voti alle prossime elezioni è l'accusa dalla quale si dovrà difendere l'assessore regionale all'urbanistica Alfonso Pisicchio, indagato dalla procura di Bari per concorso in corruzione nell'ambito di un'inchiesta che coinvolge anche imprenditori e funzionari pubblici per un giro di fideiussioni false. La Guardia di Finanza ha eseguito 16 perquisizioni, oltre che nelle abitazioni e negli uffici degli indagati, anche nelle sedi di diverse società in house della regione. Al centro dell'inchiesta figura Enzo Pisicchio, fratello dell'assessore regionale, accusato dai magistrati di essersi adoperato per favorire l'assunzione di alcune persone di sua conoscenza presso società Barisi, aggiudicatari di appalti o beneficiari di contributi pubblici, in cambio del sostegno elettorale alle prossime regionali. Il componente dell'aggiunta Emiliano si dice tranquillo e assolutamente estraneo alle accuse che gli vengono rivolte. L'altro filone dell'inchiesta riguarda un presunto sistema fraudolento grazie al quale alcune imprese, beneficiarie di polizze fideiussorie false emesse da un intermediario di monopoli, sarebbero riuscite ad ottenere dalla regione autorizzazioni e contributi europei per realizzare progetti di risanamento ed ampliamento dei siti produttivi. Nel triennio 2018-2020 gli imprenditori che hanno fatto ricorso alle polizze false avrebbero percepito illecitamente contributi regionali a fondo perduto per oltre 50 milioni di euro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.